Comi, una doppietta quest'oggi all'esordio stagionale, un commento sulla partita di oggi, prestazione tua e dei tutti i compagni? Sicuramente nonostante fosse un amichevole è importante comunque partire col piglio giusto perché bisogna avere una mentalità già dalle prime amichevoli, è stato importante comunque mettere minuti sulle gambe come giusto che sia, nonostante la tanta stanchezza comunque anche derivata dal caldo e dal lavoro che stiamo facendo e comunque iniziare a inserire le nuove idee che piano piano stiamo mettendo grazie a un nuovo mister. Due percussioni sulla fascia sinistra che hai finalizzato davvero centroavanti, è una strategia nuova del mister su cui state puntando? Sicuramente sapete bene le mie caratteristiche quelle sono, quindi viver l'area di rigore per me deve essere il mio pane quotidiano, però come sto dicendo piano piano stiamo facendo quello che il mister ci richiede, naturalmente ci vuole tempo, siamo solo comunque alla prima settimana, però deve essere questa la mentalità giusta, quella di cercare di fare quello che poi proviamo durante l'anamento in partita. Una settimana ancora di ritiro nella meravigliosa Balsesia e insieme ai nuovi compagni, insieme ai vecchi compagni, come giudichi i nuovi innesti nella squadra? Si stanno integrando, li state aiutando a integrarsi insieme a voi nel gruppo? Ma io questo devo essere anche la persona un po' più di riferimento insieme ad Alberto perché comunque siamo quelli un po' più esperti, un po' più vecchiotti, anche se abbiamo solo 30 anni e quindi cerchiamo sempre di inserirle, ma credo che in questo siamo molto bravi ed è una grande famiglia, la Provercelli e anche da questi piccoli dettagli dobbiamo fare la differenza.